Per me sì, è l'opera più bella di tutti i tempi. Ciao ragazzi e bentornati a Pizza Talk. Oggi parliamo di un argomento che mi interessa tantissimo e di un'opera che mi interessa tantissimo, Takon Titan o Shingeki no Kyojin. Takon Titan è un manga che è iniziato molti anni fa e che parla sostanzialmente di questo gruppo di persone rinchiuso all'interno di tre cerchi di mura e al di fuori di questi tre cerchi di mura girano, vagano dei giganti. A un certo punto un gigante rompe uno dei cerchi di mura penetra in uno dei cerchi di mura e lascia penetrare altri giganti all'interno crea una breccia nel cerchio di mura e questo provoca distruzione, fuga, morte ecc. parliamo di quest'opera con Giacotto che è amministratrice della pagina Shingeki no Kyojin attacco dei titani quindi siccome l'argomento mi interessa parecchio io l'ho letto tutto lo so al finale no spoiler ci vediamo dopo con la pizza allora perché tutti dovrebbero leggere attacco on titan? Per rispondere a questa domanda io racconterei di come è nato l'attacco dei giganti Shingeki no Kyojin all'epoca del suo esordio era un manga completamente sconosciuto di un autore altrettanto sconosciuto pubblicato su una rivista sconosciuta anch'essa perché è nata da poco il Besatsu Shonen Magazine quindi l'autore Hajime Isayama aveva un grandissimo bisogno di colpire in qualche modo il lettore e per fare ciò decide di puntare il tutto per tutto su un'immagine che è ormai diventata un'icona cioè la figura del gigante colossale che arriva da dietro alle mura a minacciare il genere umano e il genere umano di fronte all'arrivo di questa minaccia così importante così più grande di lui rimane paralizzato, rimane terrorizzato si sente completamente dominato e viene scardinato quello che vengono scardinate tutte quelle che erano considerate delle certezze quindi la pace all'interno delle mura e questo è quello che vuole raccontare l'autore la perdita delle certezze nell'uscire e nell'andare a fronteggiare nell'uscire fuori dal proprio paese quindi fronteggiare quelli che sono le difficoltà sociali nella sua crescita per diventare una persona adulta Shingeki no Kyojin quindi racconta la crescita dell'essere umano che tra odio, rabbia, paura, sofferenza ma anche amore fa un percorso di crescita e avanza avanza verso quello che sappiamo noi che è la libertà Secondo te come mai è avuto così tanto successo nonostante non sia affatto un manga facile? Shingeki no Kyojin in effetti è un manga complicato ma è lo stesso autore che lo presenta così Isayama disse che voleva disegnare qualcosa che fosse interessante anche a una seconda lettura e io personalmente devo dire che ogni volta che lo rileggo colgo una sfumatura diversa dell'opera quindi non mi stufa mai di leggere Shingeki no Kyojin Anche questa bella caratteristica di stimolare la curiosità del lettore In un recente sondaggio dell'Università di Tokyo gli studenti hanno annoverato Shingeki no Kyojin come il manga che li ha portati ad approfondire delle tematiche che poi sono risultate utili anche nella loro formazione universitaria quindi questo per far capire l'impatto che ha avuto l'opera anche in ambiti diversi da quello anime e manga e poi ciò che rende interessante l'opera è proprio l'estremo realismo il fatto di rappresentare il buono e il cattivo come due facce della stessa medaglia quindi di portare il lettore dentro alla storia attraverso le emozioni dei personaggi e di farlo riflettere su tematiche che possono essere universali o che riguardano anche il singolo individuo che poi a un certo punto della storia deve prendere coscienza di sé È il manga e quindi anche l'anime più bello di tutti i tempi? Qua entriamo comunque con questa terza domanda in un ambito estremamente soggettivo quindi rispondo in modo molto personale dicendo che per me sì è l'opera più bella di tutti i tempi questo per quello che mi ha dato per le emozioni che ha trasmesso e per il percorso che mi ha fatto fare Isayama mette un po' parti della sua vita e parti delle sue aspirazioni in questa opera e sta a mischiare ha saputo mischiare molto bene questi elementi grazie a una buona gestione di varie tecniche narrative che si sono già viste ma che lui ha saputo sfruttare perfettamente e quindi per me ha ottenuto un grandissimo risultato e qualcuno potrebbe dirmi che il disegno forse lascia un po' a desiderare e allora soprattutto agli esordi l'autore non aveva ancora affinato questa tecnica però c'è da dire che è proprio il tratto impreciso che aveva già all'epoca l'autore quindi questa linea diciamo che esce un po' fuori dagli schemi che però ha sempre reso caratteristico il disegno di Shingeki no Kyojin l'ha sempre reso estremamente espressivo quindi sì, non aveva questa grande tecnica soprattutto agli inizi però quella particolarità del suo tratto lo ha reso anche molto unico e originale pensi che Attack on Titan abbia aperto la strada anche a tanti altri manga che magari si ispireranno a quest'opera e saranno diversi appunto e molto interessanti come Attack on Titan? sicuramente l'attacco dei giganti ha avuto un profondo impatto soprattutto per quanto riguarda gli shonen i shonen sono i manga indirizzati ai ragazzi infatti in un ambito in cui in uno scenario anzi in cui dominano quei modelli un po' obsoleti dei vecchi shonen quali la ricerca dell'accrescimento della forza da parte dell'eroe oppure la morte eroica quindi che vede il personaggio morire mentre però lascia un contributo che in qualche modo aiuta l'umanità o comunque ti rimane in vita in modo tale da non vanificare il suo sacrificio al punto che comunque l'eroe trova la sua realizzazione anche nella sua morte e questi modelli vengono completamente subvertiti nell'attacco dei giganti e quindi il personaggio dell'attacco dei giganti ha paura di morire si oppone con tutte le sue forze alla morte e soprattutto al terrore negli occhi quando si trova di fronte la morte altri personaggi sono frustrati perché vorrebbero essere loro quelli prescelti, quelli speciali ma non lo sono e tutti questi elementi rendono l'opera estremamente realistica e trasmettono in qualche modo un'immagine che è della realtà così come la viviamo noi con l'invito forse dell'autore ad accettarla con tutte le sue sfaccettature e a viverla così come si presenta con tutte le sue sfumature perfetto, grazie mille Giacotto per essere stata con noi io vi ricordo che ci vediamo come al solito dopo la sigla e anche questo pizza talk finisce qui io vi ricordo di iscrivervi al canale di cliccare sulla campanella per essere avvisati dei prossimi episodi delle prossime interviste di lasciarci un commento se avete voglia di suggerirci una o qualche intervista, un qualche tema particolare o qualche ospite particolare di mettere un bel mi piace di andarci a trovare su Spotify se ci state seguendo su Spotify di andarci a trovare su YouTube di mangiare le verdure sta sempre bene no a parte gli scherzi ci vediamo come al solito no lo sapete no? alla prossima pizza e alla prossima intervista io non vedo l'oro ho già la colina guarda ciao ragazzi